dovesse da soli sensore di movimento scatta foto al fantasma e termometro io un sensore sonoro non so cosa serva quindi c'è di movimento però a qualche parte poi quando abbiamo è scusami in pratica non posizioni da qualche parte poi che sopra si vede se ti puoi si sente il rumore che non ha preso niente è di sensoristica abbiamo subito su nel bagno intanto sono sempre su vado a prenderlo io posso essere solo di sono la videocamera rega io lo metto quasi sono di suono a caldo c'è attività sette rega mando state se c'è attività sette rega messo il suono è si è abbassato 5 4 il momento in mano di spingere un momento quello sopra blu che cos'è ale è quello sopra blu che cos'è la torcia uv ma che fa semplicemente una ok no è per imparare quali sono gli strumenti sì ok anzi dov'è che la 7 chiamatelo però lo dico subito karen johnson mostrati dovete essere da soli però a rega ed è un anno abbastanza esatto no no non ci sono i termometri qualcuno di aggiunti i soldi no mi sa che sono studiato mia karen johnson mostrati attività 444 dove dove cinque non vuol dire un cazzo tempo di informazioni in più di da me ah piano meno meno 1 intendi ma no rega è 5 fisso eh no non li vedo qui davanti qua avete già fatto la foto si è abbassata 1 0 karen johnson mostrati karen johnson mostrati ok 4 rega attività rega mf 5 5 5 da me 6 6 6 ok respiro gelato 10 rega 10 mf 5 e respiro pesante continuamento ok faccio posizionato come si chiama come si chiama te lo dico subito karen johnson si mettono le stessure di suono lo senti vanex lo vedi il sessore sonoro promesso allora vediamo subito sì al bagno no stavolta ma dobbiamo fare la foto al fantasma ci voleva il termometro ragazzi non esistono di momento non ci sono neanche quello piccolo sensore rega chi c'è vicino al sensore un picco del senso che siamo a 10 di attività eh sì ci abbiamo avuto un picco del sensore ragazzi però se riesco a venire a mettere la camera al cesso almeno io vedo che cavolo succede arrivo io metto io ho messo il libro per terra faccio io da scuola l'acqua rega glielato acqua sta qui a terra la la fotocamera quella da mettere io la metto sotto per lei adesso aspetta aspetti che venga a vedere allora finché vedo voi davanti regà non vedo niente no vengo portare la cam no metto la cam prima aspetta non c'è attività sensori di movimento rega son sonoro quello che cavolo è c'è un po di attività non è un picco ma un po guarda la guarda questa cam arrivo ok non vi piazzate davanti rega che mi vedo una mazza aspetta levati sono messi due no non so se attiva guarda quando no non è attiva ok adesso sì ne vedi due sì vi è andata ok adesso ne abbiamo tre perfetto mancano spirit box se non posso 4 e sensore sonoro ragazzi 6 perché picco 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 c'è sedia attività l'attività è scesa però il sensore rega sta su è quasi al massimo ma perché secondo me parla guarda qua se vedi quelle con la torcia ovvi ti porto a sensibile lo spirit box non vedo niente con la torcia ovvi non vedo niente non c'è niente aspettare rega lo spirit box non l'abbiamo preso ti porto un croce fisso no l'ho presa io lo spirit box non funziona ti porto lo spirit il croce fisso perché abbastanza incazzoso questo porto del sole e quante manca una prova quattro rega di attività vanix vanix deve vedere le sfere di luce è l'unica se no libro rega il libro libro ah no non fa un cazzo il libro no vanix sono per forza le sfere di luce io non vedo niente da qua rega poi non so qual è il nome avete una camera una mara in john c'è dentro vero dice lo ce lo ce l'ho manca di quanto è un fatto dc si 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 ha messo le sfere di luce vero è rega io vedo dei pallini bianchi se tu adesso vieni a vedere la cosa si vedono le cose bianche vedi sì ogni tanto li vedo anch'io è venire approccia tu che sei dentro quanto misi rega dc vai phantom andata o se già una sabbia vuoi dire scattola la seconda io no rega e insomma come se fa rega perciò gg non so neanche come se fa start allarga io non ho io non capisco come sono era un bacino ragazzi io non ho messo quanto e oxy non so come guarda una foto delle schiena di luce ma rega ma secondo cosero ero era un bacino ero un bacino non mi piace non mi piace e non mi piace i